Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova settimana. Questa settimana è l'inizio di un progetto nuovo, come ogni settimana, un nuovo dipinto. La mia decisione è stata quella di intraprendere un lavoro un po' diverso per quanto riguarda le dimensioni di quello che ho fatto finora. Fino ad ora ho lavorato sempre esclusivamente sul formato A4, in parte perché è più facile completare velocemente un dipinto in una settimana e presentare un video completo. Quando si parla di formato, quando si rimane sull'A4, la scelta dei soggetti è anche abbastanza limitata, nel senso che su una A4, a meno che non si vogliono creare delle miniature, le scelte solitamente cadono sul ritratto, a cui io sono generalmente molto attratta, come avete potuto notare, perché se andate sulla mia pagina Instagram è abbastanza chiaro, la maggioranza delle mie opere sono ritratti, perché sono interessata alla psicologia umana e alle emozioni, all'espressione. Però è possibile anche fare dei paesaggi, seppur piccoli, si può fare un paesaggio su una A4, anche di uno still life, certo. Il problema sorge quando, come sta succedendo a me, lentamente, c'è un po' il mio volere di ritrarre scene domestiche, o scene più complesse in cui la figura interagisce nello spazio. Come ho detto in diversi altri video prima, ho una forte tendenza a cercare le geometrie, la prospettiva, anche in modo esagerato. Quindi ho pensato che, seppur ho fatto piccoli esperimenti, come per esempio nel mezzo busto del ritratto di Ryan, che hanno metamorfosi, in cui si vede un po' di sfondo, ho deciso di spostarmi su un formato medio. Quindi siamo passati dalla A4 alla A3. Il problema nasce perché avrò bisogno di almeno due o tre settimane per completarlo in un modo di cui sono soddisfatta. Quindi ho deciso di dividere i miei video in due o tre parti. La scelta tra italiano e inglese solitamente cade sull'inglese perché ci sono più persone che parlano l'inglese nel mondo e mette insieme un po' tutti, è un po' la lingua universale. E anche molti italiani in realtà che mi seguono capiscono benissimo l'inglese. E quindi finora ho scelto l'inglese. Questa settimana dipingiamo una scena italiana che si svolge in una casa in Italia di una mia cara amica che è americana ma vive qui a Milano. La bimba Dalia che anche lei come Sofì, come la mia famiglia, cresce in una famiglia a metà americana e a metà italiana con più un'altra variabile, visto che la mamma è anche messicana e parla spagnolo. Quindi in realtà è una famiglia con tre culture che vengono a mescolarsi in modo meraviglioso. Quindi ho deciso nella mia composizione, non necessariamente perché ci sono queste tre lingue nella loro famiglia, ma anche perché secondo me nell'immagine dividere la divisione in tre parti era più interessante rispetto alla divisione a metà che avevo fatto settimana scorsa sul ritratto di Caro. Ho deciso di usare lo stesso principio di questa scomposizione della scena seguendo gli assi verticali e creare tre immagini che vanno un po' a scollarsi da quello che sarebbe l'assetto di una fotografia unica per appunto continuare a lavorare su questo concetto di distaccamento di una realtà che spesso può essere vista da diversi punti di vista che contiene diverse culture come è la mia famiglia spezzata tra due continenti, America e Italia e secondo me questo sarà un tema ricorrente che cercherò di portare avanti. Adesso questa questione della scomposizione dell'immagine con le assi verticali non sarà una costante perché voglio comunque affrontare il tema con diverse interpretazioni ma volevo veramente focalizzarmi su un dipinto un po' più completo che ritrae una scena domestica che secondo me è molto importante in questo momento di lockdown e di coronavirus parlare della vita interna delle famiglie in casa che comunque anche questa è stata una costante un po' in tutto il mio viaggio qui e là quindi poter anche lavorare con la prospettiva questo principio di prospettiva anche esagerato e storpiato da nuovi dispositivi fotografici prima di tutto parlerò un attimo del supporto che sto usando perché è diverso la settimana scorsa ho lavorato su carta mi è piaciuto tantissimo lavorare su carta senza imprimatura quindi ho dipinto in olio su carta direttamente questo è una cosa che generalmente non si deve fare perché cosa succede? l'olio viene assorbito completamente dalla carta il colore rimane fuori, il pigmento con il tempo non avrà più niente a cui attaccarsi e praticamente si sbriciolerà quindi quel dipinto non è un dipinto che è affatto per durare probabilmente durerà non lo so però immagino 50 ma forse massimo 100 anni dopodiché la carta si rovinerà e comunque nel tempo quel dipinto cambierà però la sensazione di lavorare sulla carta nuda è veramente fantastico come dipingere con una macchina del tempo nel senso che tutto si asciuga velocemente riesci a fare strati a tempi record aggiungere strati su strati cosa che con l'olio solitamente non avviene perché quando si lavora su un supporto più tradizionale tipo tela o tavola di legno ogni strato deve asciugare bene prima di poter aggiungere uno strato sopra a meno che non si lavori bagnato sul bagnato e questo è tutto un altro discorso il problema è che io non potendo lavorare giornate intere avendo una bambina che è comunque a casa potendo lavorare sui miei dipinti solo mezza giornata io sono obbligata a fermarmi un giorno e riprendere il giorno dopo quindi solitamente io lavoro a strati sullo strato secco il problema è che quando ingrandiamo il formato sai, dipingere su carta in grande formato non è molto comodo e inoltre avevo in casa questi pannelli bellissimi della Ampersand pannelli bellissimi che si chiamano clayboard supporto praticamente sul quale viene messo il caolino il caolino è una forma di argilla purissima, bianca che si usa per fare le porcellane di alta qualità, molto resistente che assolutamente non influisce, non cambia il colore infatti è un materiale che viene utilizzato per esempio anche nelle matite e nei carboncini e con l'olio ha un effetto simile a quello che ha la carta senza imprimatura ho deciso di lavorare su questo supporto senza un'ulteriore imprimatura per approfittare proprio dell'assorbenza che ha questo formato così da poter lavorare velocemente come ho fatto sulla carta nuda quindi questa è comunque un'esplorazione una tecnica nuova che non ho mai visto fare nessuno e secondo me offrirà un sacco di possibilità nel senso che ci si può lavorare in modo trasparente si può graffiare e ritornare al bianco ma si può anche costruire con la pittura in un modo molto pittorico e materico questa settimana lavoriamo su disegno iniziale e quello che si può chiamare underpainting quindi la pittura sotto la pittura sottostante il primo strato che è un passaggio monocromatico di un colore di terra neutro scuro io ho utilizzato raw amber e burn amber nella parte centrale della mia composizione ho deciso di non usarla pura ma di aggiungere del blu e del bianco perché avevo l'intenzione di dare contrasto nelle aree laterali e meno contrasto nella parte centrale dove c'è la figura facendo un po' il contrario di quello che solitamente si fa che è meno contrasto sullo sfondo e sugli oggetti e più contrasto sul soggetto sulla figura in modo da portarla più vicino a chi guarda invece io voglio fare l'opposto perché solitamente la faccia e la figura attrae già tanta attenzione e io voglio invece spingerla un po' più lontano per dare un po' un effetto più malinconico più di atmosfera al dipinto vediamo cosa succede settimana prossima quando faremo delle prove colore magari su formati piccoli e poi ci aggiungeremo a dipingere sopra questo primo strato monocromo va bene, ciao ciao ragazzi buona domenica